Buongiorno ragazzi, questo è un esercizio che coinvolge lo studio della diffrazione e quindi dovremo utilizzare bene le formule che abbiamo studiato. In realtà per quanto riguarda la diffrazione abbiamo visto che c'è soltanto una formula da utilizzare bene, che è questa, di sen theta uguale a n lambda. Ovviamente con una fenditura n intero coinvolge i minimi, n invece semi intero coinvolge i massimi, mentre con due più fenditure n coinvolge i massimi e n semi intero coinvolge i massimi e n semi intero coinvolge i minimi. Ma altrimenti questa formula può essere sempre utilizzata. Tra l'altro in caso di piccoli angoli, seno di theta si confonde con la tangente di theta, la quale è uguale a y diviso l e quindi questa formula diventa così. Ora ovviamente i video presenti vanno visti, quindi semplicemente tutti dovrebbero sapere che cos'è d, che cos'è y, che cos'è l, che cos'è n, che cos'è lambda. Questa è una piccola chiusura teorica, ma va assolutamente saputo. E allora andiamo a leggere il testo. Allora abbiamo un ragazzo che non sa qual è la lunghezza d'onda del proprio laser. Allora invece di andare e magari vedere il libretto delle istruzioni fa un esperimento. E prende un reticolo di diffrazione costruito in modo tale da avere per ogni millimetro 500 fenditure. Vedremo che poi questa cosa, questa informazione, sarà legato a D. Poi ovviamente col fenomeno della diffrazione va a trovare una serie di picchi, ok? Che sono, se si può pensare, la ripetizione del nostro puntino laser che va a colpire il reticolo di diffrazione. E quindi va a trovare che tanti massimi e sa che la distanza tra il secondo massimo e il picco principale, ecco, questa informazione, soprattutto questo 2, è importante per n, perché n allora vuol dire che fa 2, perché in un reticolo di diffrazione gli interi stanno con i massimi. E la distanza tra il secondo massimo e il picco principale, che è 15 centimetri, è ovviamente un'informazione per quanto riguarda la y. Quindi, vedete che i dati servono. E la distanza tra il reticolo e lo schermo è 22 centimetri, ovviamente questa grandezza è L. Quindi, se noi ci chiedono di trovare la lunghezza d'onda laser, potremo tra l'altro raffigurare questo problema, non è neanche difficile, perché noi abbiamo il nostro reticolo di diffrazione, quindi dobbiamo immaginare tante fenditure. E ce ne sono tante, tante che in un millimetro ci sono 500 fenditure. Poi noi vorremmo trovare la distanza semplicemente tra due fenditure. Ecco, poi dobbiamo metterci a 22 centimetri dallo schermo, quindi 0,22 metri. E ovviamente, ad esempio, appoggiando il laser qui dietro, andremo a trovare una serie di picchi, dove ovviamente qui ci sarà il picco centrale a luminosità massima, poi avremo gli altri picchi, quello con n uguale a 1, poi ci sarà quello con n uguale a 2, perché è garantito che esista quello con n uguale a 2, semplicemente perché lui lo trova, e dice che c'è una distanza tra il picco centrale e tra questo di 15,5 centimetri. Quindi, in realtà, per essere un pochino più realistico, visto che quella distanza è 22 centimetri, allora vorrà dire che lui non osserverà questo fenomeno, perché la distanza tra il principale e il secondo picco è ben a 15 centimetri, quindi osserverà una cosa più simile, in realtà, a questa. E questa cosa poi serve, non è che sto inventando una cosa banale, ok? Quindi ci sarà, diciamo, il picco centrale con n uguale a 0, poi lui osserva questo qua, quello con n uguale a 2, non credetemi perché questo ragazzo non ha preso la misura per n uguale a 1, poi tra l'altro noi sappiamo che ci sarà il primo minimo tra i due massimi, quindi questo qui avrà n uguale a 0,5 e questo avrà n uguale a 1,5. Ovviamente sui massimi ci sono i semi interi, sui minimi ci sono i semi interi. Ovviamente dall'altra parte succederà la stessa cosa, n uguale a 1, n uguale a 2 e via andare. Allora, attenzione, se noi dobbiamo trovare la lunghezza d'onda, semplicemente utilizzando l'approssimazione, potremmo dire che, visto che di y su l è uguale a n lambda, allora vediamo se noi abbiamo tutte queste quantità, perché l'anda, semplicemente dividendo di qua e di là per n, è di per y fratto nl. Allora, y ce l'abbiamo, è 15 centimetri e mezzo. n ce l'abbiamo perché la posizione di y è 15,5 centimetri, di che cosa? Del secondo massimo, quindi n uguale a 2. l ce l'abbiamo perché è 0,22 metri, 22 centimetri. d non ce l'abbiamo, ma è facilmente trovabile. molti fanno fatica, ma assolutamente no, perché se in un millimetro ci sono 500 fenditure, la domanda è, ma quanto spazio c'è tra due fenditure? Cioè, se in un millimetro ci sono 500 fenditure, questo vuol dire che la distanza tra due fenditure sarà semplicemente un millimetro diviso 500 fenditure. immaginate che appunto in questo millimetro ce ne siano appunto 500, e voi poi vi chiedete qual è la distanza tra una fenditura e l'altra, ovviamente devo fare un millimetro diviso 500. E non sarà assolutamente difficile come calcolo, perché un millimetro, tra l'altro, può essere visto come mille micron, e quindi dovrei fare semplicemente, questa è una furbata per farvi vedere una cosa. Se lo scrivi in questo modo, riesco a fare velocemente mille diviso 500, e quindi vuol dire che c'è una fenditura, vedete, ogni due micron. Quindi vuol dire che d vale due micron, e quindi due per dieci alla meno sei. Questa è la distanza tra una fenditura e l'altra, due per dieci alla meno sei metri. Quindi vado ad inserire questo dato in d, e quindi viene due per dieci alla meno sei metri, e ora devo semplicemente fare questo calcolo. Vediamo se l'anda che mi viene è corretto, perché io ho scritto, tra l'altro, le soluzioni, dovrebbe venire 576 nanometri. Vediamo se viene. Quindi devo fare due per 0,155 diviso due, e poi ancora diviso 0,22, e questo qui devo moltiplicarlo per dieci alla meno sei. Allora, come vediamo, viene 7,04 per dieci alla meno sette metri. Ora, visto che tutto deve essere espresso in nanometri, semplicemente, e questo è in metri, semplicemente nanometri sono dieci alla meno nove. Quindi per fare un'equivalenza, per passare da metri a nanometri, ci sono nove salti, e quindi ovviamente devo moltiplicare questa cosa per dieci alla nove, e quindi diventa 704 nanometri. Allora, 704 nanometri è abbastanza sbagliato, no? Perché il risultato dovrebbe essere 576 nanometri. E perché è sbagliato? Ho sbagliato per fare i calcoli? Ma no, in realtà ho sbagliato una cosa. Non abbiamo assolutamente guardato quanto vale l'angolo, e se si poteva fare l'approssimazione, perché se noi superiamo un angolo 13-15 gradi, l'approssimazione non si può fare. E l'angolo da guardare, ragazzi, si ottiene, partendo da questo punto, collegandolo con il secondo massimo, e guardando quanto fa quest'angolo. A parte che, occhio, quest'angolo non mi sembra molto piccolino, ok? Perché Y ed L sono comparabili, però quest'angolo si può trovare. E se l'angolo è più piccolo, di 15 gradi, l'approssimazione va bene. Allora, come si fa? Trigonometria. Semplicemente, questo cateto, questo cateto qui, vale 15,5 centimetri. Questo cateto qui vale 22 centimetri, quindi utilizzando la trigonometria, si può trovare che quest'angolo è tra l'altro l'arctangente di il cateto opposto, quindi 15,5 centimetri, diviso il cateto adiacente, quindi 22 centimetri. Allora, se noi facciamo questo calcolo, ovviamente ho utilizzato l'arctangente perché ho i due cateti, sarebbe stato stupido trovare l'ipotenusa, faccio arctangente di 15,5 diviso 22, e viene un angolo di 35,166,4, così sono preciso, gradi, che non mi sembra per niente, assolutamente, più piccolo di 15. Quindi vuol dire che questa approssimazione assolutamente io non posso utilizzarla, ma devo passare per la formula invece generale, cioè che di sen teta è uguale a n landa. Altrimenti trovo un risultato sbagliato. Allora, se di sen teta è uguale a n landa, che è una cosa che potremmo fare subito, landa è semplicemente di sen teta diviso n, bene, e cosa andiamo a trovare? Andiamo a trovare una cosa, diciamo un po' la soluzione corretta, perché d è 2 per 10 alla meno 6, ecco, il seno di teta, ma l'angolo io ce l'ho, era il mio 35 e rotti, quindi semplicemente calcolo il seno di quest'angolo, che viene 0.57595, cerchiamo di essere precisi, fratto n che fa 2, ok, quindi questo 2 e questo 2 si mangiano, e questo è in metri, e quindi semplicemente mi viene un landa, vedete, che è esattamente sarebbe 0.5759 per 10 alla meno 6, messo in nanometri, moltiplico questa cosa per 10 alla 9, quindi questo numero lo moltiplico per 1000, perché, ok, un dice la 6 viene mangiato da lui, un dice la 3 viene assorbito da questo numero, e quindi viene in nanometri, 576 praticamente nanometri, che è la soluzione corretta, con l'approssimazione sarebbe venuto quei 700 e rotti nanometri, quindi è un errore abbastanza grave, ragazzi, ok, ecco, è finito l'esercizio, beh, intanto vi faccio vedere che con GeoGebra questa cosa si può creare, quindi vediamo che dove ho messo C praticamente è il, la posizione dove c'è il reticolo di diffrazione, e quelli che vediamo qui sono i massimi e i minimi, il massimo principale è quello rosso, quello allineato con C, e poi abbiamo gli altri. Allora, volevo semplicemente farvi vedere che ho messo L esattamente a 0,22, potete vedere qui, ok, che la distanza è esattamente 0,22. Poi, ho messo D esattamente a 2, perché D è espresso in micrometri, e anche L'Anda è espresso in micrometri, quindi si può vedere che per creare il secondo massimo esattamente a 0,155, io mi devo praticamente mettere, vedete, il secondo massimo adesso è più o meno a 0,15, magari lo devo, devo giocare con L'Anda per arrivare esattamente a 0,155, quindi a metà quadretto, ecco, e possiamo vedere che il L'Anda che permette questa cosa è praticamente 0,575 micrometri, quindi i nostri 575, 576, e quindi questo, diciamo, questo risultato è corretto. e ultima cosa, visto che, vedete che la distanza tra un massimo e il minimo successivo pian piano, e tra il minimo e il massimo e un pian piano, aumenta, ok, vedete, ecco, la domanda è, ma io, quanti massimi riuscirò a trovare? Cioè, visto che la distanza continua ad aumentare, non è che il numero di massimi e il numero di minimi è finito? Cioè, dopo un po', non ce la faccio più, ecco, infatti, la seconda richiesta è, trova il numero di massimi totali, il risultato è 7, cosa che tra l'altro si può contare, cosa che tra l'altro si può contare, perché se noi contiamo, magari partendo dall'alto, vedete, ne vediamo 1, i pallini rossi, 1, 2, 3, 4, che è quello centrale, 5, 6, e 7. Se vado in giù, io non trovo assolutamente più niente. E io come faccio a saperlo da questa cosina qua? Beh, è semplice, perché ovviamente, non potendo utilizzare l'approssimazione, perché se io vado molto lontano, lungo le y, col cavolo che l'angolo è piccolino, allora io cosa faccio? ma l'unica formula da utilizzare è questa, e io mi chiedo, ma quando l'angolo tende, ovviamente, a 90 gradi, cosa succede? Perché mi sono chiesto quando l'angolo tende a 90 gradi? Eh, perché il seno, ragazzi, al massimo fa 1, ok? Quindi, io mi metto nella posizione limite, mi chiedo, se mai esistesse una posizione in cui, diciamo, talmente bassa, o talmente alta, adesso mi metto talmente bassa, perché mi faccio il predisegno, però, una posizione di un picco talmente bassa, che l'angolo praticamente fa 90 gradi, questo non è mai vero, ok? Però diventa sempre più bassa. Ecco, e qui mi chiedo, qual è il punto più in basso che si riesce a raggiungere? Non è mica difficile, perché, ovviamente, io per trovare il valore di n massimo, semplicemente, pongo massima la quantità che c'è di là, cioè, il seno che fa 1, cioè 90 gradi. E allora, questo esercizio diventa un calcolo molto semplice, perché visto che il seno di teta fa 1, mi chiedo, ma qual è l'n massimo che riesco ad ottenere massimizzando il seno? Beh, l'n massimo è semplicemente di sulanda, che tra l'altro è uguale, ma visto che è la stessa cosa, al modo in cui si trovavano il numero massimo, no, di interferenza costruttiva nell'interferenza nello spazio con due sorgenti coerenti. Chi ha seguito la playlist delle onde sa benissimo di cosa io stia parlando, e quindi facendo semplicemente di, che è 2 per 10 alla meno 6 metri fratto l'anda, che è i miei 0.576 sarebbero micron, e quindi per 10 alla meno 6, semplifico questo con questo, e quindi viene un n abbastanza semplice, un n pari a 3.47. Cosa vuol dire n uguale a 3.47? 3.47. Ecco, che n massimo che riusciamo a creare è 3.47, cioè, riesco a costruire, riesco ad arrivare fino a 3.47, quindi in realtà arriverò a n uguale a 2, poi, al minimo, a n uguale a 2.5, perché riesco ad arrivare a 3.47, poi, all'n uguale a 3, la distanza continua ad aumentare, ma non riuscirò, tra l'altro, mai arrivare all'n uguale a 3.5, perché il n massimo è 3.47, ok? Quindi, in realtà, se adesso io vado a contare i massimi, ovviamente ne ho 1, 2, 3, 4, 5, poi avrò quello con l'n uguale a 2, 6, quello con l'n uguale a 3.7 e basta, e poi, in mezzo, avrò i miei amici minimi, quindi, tra l'altro, qui vi ho mostrato ciò che si ottiene dalla figura, e quindi, ancora una volta, qui possiamo vedere, visto che è la stessa figura, possiamo vedere 7 massimi, poi, se uno conta, in tutto, poi, ovviamente, se uno conta i minimi, sono 1, 2, e 3, 4, 5, e 6, quindi, 6 minimi, e poi, si potrebbe andare, magari, tutti insieme, a valutare, ma l'esercizio, ovviamente, è finito, non lo so, la posizione, di n uguale a 3, come si fa? Semplicemente, si pone n uguale a 3, e si trova la y, quindi, ragazzi, tutte le esercizio, si fanno così, posso girarvi, il link, di GeoGebra, per riuscire, ad esercitarsi, attenzione, che di e lambda, sono in micron, mentre tutte le altre cose, sono in metri, ma come avete capito, saper passare, da micron a nanometro, deve essere, abbastanza semplice, e ultima cosa, attenzione, alle approssimazioni, perché, quando l'angolo, supera il 15 gradi, l'approssimazione, va a farsi benedire, e che di e 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 di